Ehi, Emily! Ti sei svegliata? Oh, devi usare il vasino! Oh, devi usare il vasino! E' ora di vestirsi! Questo vestitino o quest'altro? Ottima scelta, Emily! Sì, un fiore! Un caniglia! Ho fame! Ehi, andiamo in cucina! Mentre io preparo la colazione, tu puoi disegnare! Non dimentichiamo di lavarci le mani prima di cucinare! Emily adora le pappe per bambini! Ehi, andiamo in cucina! E' ora di fare una deliziosa colazione, Emily! No! Oh! Oh! Emily era molto affamata! Ha mangiato tutto! Oh! Sono tutta sporca! Non preoccuparti, Emily! Ci penso io! Tu gioca con le palline e io lavo i piatti! Ehi!